In conferenza stampa con Lorenzo Longo, centrocampista dell'audace Cerignola, partiamo da quello che è stato il successo interno contro la Gelbison, una vittoria sofferta ma meritata anche in questa circostanza tante le occasioni macinate, alla fine è venuta fuori quella vittoria che serviva in un momento particolare. Come hai detto tu Domenic è stata una vittoria importantissima, è stata una vittoria importantissima perché a Mossola classifica venivamo da un periodo nero, per ora l'importante è continuare a dare continuità perché ora ci servono solo vittorie per recuperare punti sul Bitonto che in questo momento è prima in classifica. Ci tenevate a farlo per i tifosi, per la società, per il tecnico ma anche per tutelare quello che è il lavoro di lunghi mesi, di un cantiere che è rimasto aperto per le vicissitudini che ben sappiamo oggi finalmente sia l'organico al completo e si può guardare con più fiducia e attenzione al futuro. Sì sicuramente i nostri obiettivi, gli obiettivi della società e anche della tifosieria non cambiano, noi puntiamo a fare un campionato di vertice, puntiamo a vincerlo perché sappiamo tutti che la società è ambiziosa però ti ho detto non possiamo più permetterci in questo momento del campionato passi falsi, dobbiamo continuare a fare vittorie come quella di Domenica e ora ci aspetta una trasferta insidiosa che è il campo di Altamura, è un campo insidioso anche l'anno scorso, abbiamo fatto fatica però abbiamo portato a casa i tre punti. Timo Altamura dalla nuova gestione tecnica da tre giornate, solo i tre punti nelle medesime tre giornate, anzi citate sicuramente si gioca una partita su un campo ostico contro un avversario ostico e affamato di punti come lo è l'audace Celignola perché bisogna proseguire la scia positiva. No, l'Altamura è una squadra ostica, l'ho vista, ho visto alcune parti, alcune situazioni di gioco l'ora, è una squadra che cerca di giocare a calcio però come ti ho detto prima noi non possiamo più permetterci i passi falsi, andremo lì per portare a casa i tre punti perché siamo in grado di farlo. Cattiveria, è stato questo l'aspetto cruciale emerso dal match di domenica, l'avete voluta dall'inizio la vittoria, alla fine ci avete provato e riprovato e i gol sono arrivati. Sì, è quella che ci è mancata nelle scorse partite anche a partire da me perché anche io ho sbagliato tante situazioni da gol davanti al portiere con il Bitonto, con l'Andrea però domenica abbiamo messo la cattiveria giusta in campo e nonostante il tutto possiamo fare ancora meglio perché anche domenica ci sono state tante occasioni da gol da parte nostra però alla fine siamo stati bravi a concretizzarli. Grazie a Lorenzo Longo, centrocampista da Davola Cecilignola e in bocca al lupo. Grazie.